Domenica scorsa abbiamo letto di Gesù che alla sinagoga di Cafarnao, tra lo stupore della gente, libera un uomo posseduto da uno spirito impuro. E la sua giornata continua. E ci viene proprio narrato il come nel brano di Vangelo di questa domenica invece. Leggiamo infatti che il maestro si reca nella casa di Simone, che poi diventerà Pietro, guarendone la suocera, che era letto con la febbre. E più tardi, verso sera, è in mezzo alla gente, alla folla, che li porta malati ed indemoniati da guarire e da liberare. Non so se tutte le giornate di Gesù fossero così intense, però leggendo il brano di Vangelo colpisce un particolare che descrive l'evangelista Marco. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito. Si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Boh, credo che Gesù cominciasse così tutte le sue giornate. Tanto più se erano dense di attività e di incontri. Può sembrare strano ed assurdo che il Figlio di Dio avesse bisogno di pregare, ma in realtà ha un senso. Era il modo per connettersi con il Padre e lo Spirito Santo, per lasciarsi ispirare, per non perdere di vista il senso della sua missione, per avere quella giusta carica per affrontare la giornata, per capire cosa dire e che cosa fare. Chiediamoci, e io come comincio la giornata? Pensando immediatamente alle incombenze, magari anche alle seccature che mi aspettano oppure affidandomi anche a Dio. Inizio guardando ai miei problemi o ricordandomi attraverso la preghiera che non sono solo in ciò che vivo. Comincio pensando a quello che non va oppure dico me stesso e al Signore almeno un motivo per ringraziare. Anche le nostre giornate sono belle piene ed è normale che sia così visto che abbiamo delle responsabilità, ma un conto è affrontare tutto confidando solo sulle nostre forze, altro è condividere con Dio quanto siamo chiamati a vivere. Guardare ad una giornata tipo di Gesù è un invito a guardare alle nostre giornate, per chiederci io come vivo il mio tempo, lo spreco, lo uso bene, lo affronto con l'ansia e la smania di efficientismo oppure nella completa pigrizia e mi trascino. Riesco ad abitare in modo bello le mie giornate. Ricordiamoci che se viviamo bene il tempo con l'equilibrio questo si ripercuote positivamente su di noi. Come mi sveglio al mattino? Ho il tempo per pregare un attimo e iniziare con calma la giornata, prendendo coscienza di me, facendo colazione, scambiando due parole con le persone che abitano insieme a me, oppure appena apro gli occhi sono già lì con lo smartphone in mano e poi mi rendo conto che è già trascorsa mezz'ora e allora faccio poi tutto di ricorsa. C'è poi la scuola, c'è il lavoro, le varie faccende. Mi do il tempo per fare le cose un po' per volta, cercando di essere presente in ciò che sto facendo, senza l'ansia di pensare a ciò che dovrò fare dopo. Mi concedo del tempo per mangiare con calma. Quando rientro a casa, come vivo lo studio, il mio restare in famiglia e lo stare con me stesso? Come uso i momenti liberi? Cosa faccio prima di andare a dormire? A che ora vado a letto? Credo che spesso viviamo male perché non sappiamo organizzarci, non ci godiamo il presente, gestiamo disordinatamente il nostro tempo. Ma volgiamo lo sguardo alla suocera di Simone a letto con la febbre. Questa scena ci rimanda a tutte le situazioni nelle quali siamo febbricitanti, non a causa dell'influenza, ma per il fatto che siamo irrequieti, frenetici. La febbre è correlata all'agitazione. Non a caso esistono queste espressioni, no? La febbre del sabato sera, la febbre del loro, la febbre degli acquisti, lavoro febbrile. Siamo anche noi malati, come quella donna, ogni qualvolta che non riusciamo ad abitare con equilibrio il nostro tempo, le nostre giornate, il singolo istante. E questo accade quando o rischiamo di cadere nella pigrizia, vivendo da trascinati, oppure nella frenesia, affrontando tutto con l'ansia, facendo più cose nello stesso momento, oppure stando sempre altrove e mai sul pezzo, mai concentrati sul presente, perché per esempio siamo sempre appiccicati il nostro cellulare, oppure perché iniziamo male la giornata pensando che tutto dipende da noi e non abbiamo un minimo di sguardo verso Dio. Il tempo va assaporato come il cibo, senza ingozzarci, gustandone un istante, solo così possiamo vivere bene. Impariamo a fare una cosa per volta, per esempio, perché la simultaneità non ci aiuta a far prima e meglio, ma soltanto ad essere più agitati. Buona domenica a tutti.